Oggi vi presento un video su un nuovo gioco uscito da poco, si chiama Altos Adventure e è un gioco in pratica dove devi cercare di scappare. Il gioco in pratica consiste anche nel cercare di non andare a sbattere contro le rocce saltando e consiste anche nel fare dei backflip su degli sci. Soprattutto adesso mi presento, sono a Cap104 e questo qua è il mio primo video. Spero che subito vi iscriverete, mi metterete molti like. Questo gioco mi piace però è un gioco per il telefonino, è molto bello e ci vuole anche molto poco per installarlo. Grazie a tutti. Ora io farò anche tanti altri video, però questo qua è uno dei miei primi video. Grazie. 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 Buona vita. Buona vita. Buona vita. Grazie. Buona vita. Ora vi do salutare a tutti al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto scrivete anche nei commenti. Ciao e al prossimo video. Grazie.